Colonne di fumo, scontri ancora vittime. A Mosul l'esercito iracheno si prepara per la battaglia finale contro l'autoproclamato Stato Islamico. Qui siamo nella zona sud-ovest della Roccaforte dove infuria la battaglia contro i jihadisti. Combattimenti, raid che continuano a fare vittime tra i civili senza contare il numero dei profughi che aumenta drasticamente di giorno in giorno. Ormai è catastrofe umanitaria. Secondo l'ONU, dall'inizio dell'offensiva lanciata ad ottobre, oltre 350.000 civili sono riusciti a scampare alla morte e altri 600.000 sono ancora intrappolati nelle zone controllate dagli uomini del califato. Una cosa simile non è mai accaduta in Iraq, racconta quest'uomo. Forse da qualche altra parte nel mondo succedono cose simili. Noi stiamo seppellendo morti senza sosta. Intanto la lotta contro l'ISIL prosegue anche in Siria. Qui i ribelli appoggiati dalla coalizione a guida statunitense stanno avanzando verso Iraq, altra roccaforte dei miliziani integralisti.